Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo video molto veloce andiamo a vedere un estratto dal keeping pull ups fatto con Gabriele cerchiamo di capire come affrontare al meglio l'esecuzione dell'arch position, arch body position ci sono io come parente allievo e Gabriele che mi fa da insegnante ovviamente sarà molto utile per voi capire dove andare ad attivare i muscoli corretti per questa esecuzione ovviamente fatelo soltanto se avete le possibilità per farlo fisicamente parlando quindi non forza della postura, se avete bisogno di consigli basta scriverlo giù nei commenti di corsa a vederci il tutorial palce in sotto quando è fatto bene riusciamo a fare questo uguale punte dei piedi unite giù di attivo parto da giù 3 2 1 arch position vengo su e guardo giù 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 con la testa quindi entro dentro e scendo 3 2 1 go come avrei visto l'esercizio sembra semplice ma non è così facile cosa importante applicarsi per bene e cercare di raggiungere la postura migliore se vuoi scoprire il video integrale basta andare nella scheda che ho messo qui sopra oppure nel link in descrizione comunque scrivendo sul nostro canale keeping pull ups è molto semplice uscire subito fuori perciò ci vediamo al prossimo tutorial con fabrizio ferri il vostro personal e allievo perché a volte per migliorare è giusto anche mettersi in gioco e in discussione iscriviti a wkt fitness tv